Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7 che scoccano in questo istante, oggi è mercoledì, questa è la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, naturalmente anche oggi rassegna pressoché monotematica sul coronavirus, i morti sono arrivati a 11, i contagiati a 330, c'è anche una bimba positiva che per il momento sembra star bene, però è positiva. Ma è anche la giornata di diverse altre cose legate al coronavirus. Per un verso è ormai pacifica l'inadeguatezza di Conte, potremmo dire Amfit Composchet, aveva provato l'altra notte, ve lo avevamo raccontato nella rassegna di ieri, a gettare la colpa sull'ospedale di Codogno, a colpevolizzare le regioni, ieri è stata la giornata degli schiaffi a Conte, che è stato costretto per un verso a ritrattare l'accusa nei confronti dell'ospedale di Codogno, che si è comportato secondo le circolari e secondo quanto era richiesto ai medici in quel momento, e non solo, si è preso anche le rispostacce da parte delle regioni, oggi qualunque giornale sceglierete di acquistare c'è la cronaca di come in particolare il presidente della regione Lombardia Fontana e il suo assessore Gallera abbiano risposto in modo motivato e durissimo a Conte, addirittura con Fontana che lascia la teleconferenza con Conte e poi rientra dopo una faticosa mediazione condotta dall'ex sindaco di Lodi, attuale ministro della difesa Lorenzo Guerini, qualcuno la stampa dice anche per intervento di Mattarella. E c'è poi un terzo elemento, e cioè un tentativo un po' mainstream mediatico, un po' mainstream politico, di introdurre una terza fase. La prima fase è stata quella fino a quattro giorni fa della sottovalutazione, non c'è problema, poi la seconda fase per quattro giorni una drammatizzazione forse anche eccessiva, adesso un tentativo di ridimensionamento. Il problema è che però è la credibilità delle stesse facce, delle stesse testate, delle stesse persone, dello stesso Conte con lo stesso maglioncino che vogliono fare tutte e tre le parti in commedia e di tutta evidenza questo non giova alla loro credibilità. E naturalmente poi ci sono i riflessi economici che cominciano a essere devastanti, la pioggia di disdette sul turismo, pesantissimo il rinvio del salone del mobile, probabilmente ormai l'appuntamento più importante della Milano economica, rinviato a giugno, e un'immagine dell'Italia che da cool diventa dangerous, diventa in qualche modo pericolosa, segnata in negativo. Le aperture, la verità, la vera emergenza, il Conte virus, cioè la grafica abbastanza divertente della faccia di Conte poi sfrangiata intorno proprio come un virus. Italia zimbello, il premier prova a scaricare la colpa sui medici eroi e sulle regioni, poi alla reazione furiosa di Fontana cala le braghe, abbiamo esagerato con i tamponi, ma ormai ha fatto danni per miliardi. E sì, perché dimenticavo di dirlo nel sommario, c'è stata anche quest'altra giravolta, ora improvvisamente Conte dice no, forse non dobbiamo fare, diciamo, troppi esami con il tampone. Il Corriere della Sera più neutro, nuove misure per contenere il virus. Il fatto quotidiano, adesso piantatela, gli scienziati dicono basta a bufale e allarmismi. Francia e Maurizius, sciacallaggio anti-Italia, le vittime salite a undici, pace tra Lega e Conte, le regioni ancora in ordine sparte. Il fatto quotidiano è un po' bollettino di guerra, un po' romanzo fiction, sci-fiction vorremmo dire, ma tant'è. Il messaggero ritorna diciamo autonno neutro del Corriere della Sera, virus stretta in tutta Italia, duro ma a mio avviso abbastanza centrata la scelta del tempo, il premier scatena la psicosi, raffica di errori dell'esecutivo, l'ultimo a scaricare le colpe sul mini ospedale di Codogno, accuse false perché ad avere scatenato una maxi confusione sono le ordinanze del governo, sale il conto delle vittime, undici più di trecento contagiati e inizi a crollare l'economia. Repubblica, Italia no grazie, effetto virus, crolla il turismo, 40% di disdette alberghiere e infine la stampa, virus, il grido del nord, rischio paralisi. Peraltro vorrei ricordare che oggi è mercoledì e quindi l'invito, una volta che questa rassegna sarà conclusa verso le sette e mezzo e quando ciascuno si prepara poi a uscire, è quello di passare in edicola, di prendere non solo la verità ma anche panorama. Oggi è il giorno dell'uscita del settimanale pure diretto da Maurizio Belpietro, c'è un'anticipazione che vi facciamo, il pezzo di Antonio Rossitto su i problemi di Renzi e di Italia Viva. Soldi, voti, iscritti, tutti i numeri flop dell'ex rottamatore, donazioni crollate da 329 a 85 mila euro in tre mesi, sondaggi al 3%, il no dei politici locali e conclude Rossitto, vicina la batosta alle regionali. Allora ripartiamo, ripartiamo da Maurizio Belpietro, dalla prima della verità, facciamoci aiutare a inquadrare la giornata. Abbiamo già avuto modo di verificare che Giuseppe Conte non ha la stoffa dello statista, in compenso da lunedì sera abbiamo la prova che ha una bella faccia tosta. A nessuno infatti sarebbe venuto in mente di attaccare medici che lavorano giorno e notte contro il contagio da coronavirus, alcuni dei quali proprio per questo rimasti infettati, accusandoli di essere incompetenti e di avere sbagliato ad applicare i protocolli. Men che meno nessuno avrebbe il coraggio di prendere a sganassone i dottori se, come il Presidente del Consiglio, portasse la responsabilità di aver avuto un atteggiamento a dir poco contraddittorio a fronte dell'epidemia e poi Belpietro esamina in modo molto severo ma anche molto argomentato tutti gli errori, tutte le falle, tutte le contraddizioni, tutte le giravolte di Conte, l'offerta informativa della verità, oltre all'editoriale del direttore, a pagina 2, tutta la sintesi delle giravolte di Conte, la rissa con la Lombardia, la risposta dura di Fontana e Gallera, la retromarcia del Premier, costretto di fatto a scusarsi su Codogno e a cambiare linea sui tamponi. Giorgio Gandola che ricostruisce questi tre giorni, al Premier sono bastati tre giorni per gettare la nazione nel ridicolo. Patrizia Floderreiter, Mezzomondo sta dando la caccia agli italiani, cioè ahimè gli italiani all'estero che sono a questo punto oggetto di uno scrutinio sanitario e se non già addirittura di misure conclamate di isolamento. Irene Cosul Cuffaro sulla rabbia dei sindaci, dei comuni isolati, il governo ci tratta come se avessimo colpe e per altro verso si porta avanti col lavoro Adriano Scianca perché dice qui già abbiamo un sacco di guai ma le navi continuano ad arrivare e c'è il rischio di una ondata ulteriore di problemi se non di, speriamo di no, portatori da parte di altri paesi, in questo caso potenzialmente da paesi africani. Adriano Scianca, le ONG se ne sbattono dell'influenza dopo la Ocean scalpita la Sea Watch. Queste tra l'altro alcune delle cose. E poi teniamo da parte, lo affronteremo successivamente, ma voi fate un nodo al fazzoletto starei per dire fate un nodo alla pochette, Claudio Antonelli. Lontano dai riflettori tedeschi e francesi ci fregheranno meglio. Qual è il tema che pone Antonelli? Lo vedremo alla fine. Quali sono quei dossier rilevantissimi per il posizionamento strategico del paese, per le industrie strategiche di cui ora non si parla ma che in silenzio rischiano di andare avanti a partire da un pericoloso bilaterale Italia-Francia nel weekend? Ci arriveremo fra poco. E Conte intanto, Conte oggi viene intervistato, gli viene offerta una pagina e un microfono sul Corriere della Sera, Monica Guersoni, non sembra esattamente proprio il prototipo di un'intervista incalzante, è l'ora dell'unità nazionale, no a chi specula per avere voti. Per la verità la Guersoni alcune domande le fa. Conte adotta il metodo della supercazzola, come vedrete, quella che manca sempre è la seconda domanda. Lei non mi ha risposto, perché non mi risponde alla prima domanda? Ma questo è chiedere troppo. Presidente Conte, l'Italia è terza al mondo nella triste classifica del coronavirus e in un giorno i casi sono aumentati del 45%, perché supercazzola? Ci stiamo adoperando con grande impegno, avvalendoci dei migliori esperti per gestire questa emergenza nel modo più efficace. Quella che stiamo fronteggiando è una sfida in cui ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Il numero dei contagi non deve allarmarci, è comunque il frutto di una linea di azione energica e rigorosa e di controlli efficienti messi in campo da subito. Siamo fortissimi. Domanda all'OMS, è molto preoccupata per l'Italia. Cosa non ha funzionato nella strategia del governo? Risposta, l'OMS sta giustamente prestando attenzione all'evoluzione che la diffusione del virus sta avendo in Italia. Abbiamo in comune un obiettivo prioritario, la salute dei cittadini. Abbiamo da subito affrontato l'emergenza con misure adeguate e proporzionali. La domanda era cosa non ha funzionato. Ma Conte, diciamo, va per conto suo. Poi sulla chiusura dei voli, l'interruzione del traffico ci ha consentito di limitare notevolmente il rischio del contagio. E infatti non abbiamo più potuto tracciare nessuno. Dovuto alle persone provenienti dai focolai cinesi di infezione. Coi voli diretti arrivavano in Italia all'incirca 12.000 passeggeri a settimana, numeri con cui non era possibile mettere in atto un efficace sistema di quarantena. Insomma, il tono è tutto questo di Conte che dice siamo bravi, siamo braissimi, siamo fortissimi, ma direte voi come si giustifica il titolo no a chi specula per avere voti? E avete già capito dove si va a parare, è colpa di Salvini. Si spiega con la penultima domanda. È vero che al telefono con Salvini ha fatto autocritica sull'ospedale di Codogno? Non è il momento delle polemiche. Chi pensa di poter lucrare in termini di consenso alimentando la paura non fa l'interesse della nazione. Avete capito? Beh, anziché dire sì, in effetti mi sono scusato al telefono, ho detto una sciocchezza, ho accusato dei medici, peraltro a pagina 2 della verità trovate anche la spiegazione sui protocolli, i medici di Codogno hanno effettivamente rispettato i protocolli. No, Conte la gira dicendo che è lui che specula e il Corriere ci fa anche il titolo. Ma guardate che non è un caso, è tutta un'impostazione che è confermata dall'editoriale di Fiorenza Sarzanini. Tutto concepito, siamo sulla prima del Corriere, poi gira nelle pagine interne, sulla logica, ma sì, stanno litigando, maggioranza, opposizione, Stato centrale, regioni, sbagliate tutti, è tutta una gran mischia. È un mondo sospeso di fronte al quale la classe dirigente di questo paese deve essere unita nell'affrontare il problema di una possibile recessione, dunque adeguata a fronteggiare difficoltà che possono diventare più gravi di quelle attuali e così mostrarsi all'altezza della situazione. Tutti uguali, tutti i gatti sono grigi in questa notte e ahimè anche il direttore della stampa Maurizio Molinari nel suo editoriale, dopo avere detto un sacco di cose condivisibili su una strategia di comunicazione che dovrebbe essere diversa, che dovrebbe rendere noto agli italiani e anche agli osservatori esteri i progressi che auspicabilmente si faranno per retrocedere dall'emergenza, per dare un segno di positività e non di negatività. poi però vedete come conclude Molinari. Ecco perché il disaccordo sulla qualità della sanità lombarda tra Giuseppe Conte e Attilio Fontana contrasta con l'interesse nazionale, trasmette l'immagine della leadership di un paese lacerato dalla politica più miope che dedica le sue risorse a litigi inutili al fine di risolvere i problemi del paese. Non c'è alcun dubbio, dice Molinari, che il premier ha ragione nel rimproverare alla sanità lombarda di essersi fatta sfuggire il paziente zero. Rileggo perché è incredibile, Maurizio Molinari non è Casalino, è Maurizio Molinari. Non c'è alcun dubbio che il premier ha ragione nel rimproverare alla sanità lombarda di essersi fatta sfuggire il paziente zero. Come non c'è alcun dubbio che il premier porta su di sé la responsabilità di aver bloccato i voli diretti dalla Cina ma non gli arrivi indiretti esponendo il paese al rischio di contagiati. Ma proprio per tali motivi entrambi dovrebbero pensare non a bisticciare a fini politici bensì a riscattarsi agli occhi degli elettori perseguendo l'interesse dell'intero paese. E quindi tutti uguali, tutti uguali. E no, spiace, spiace dire a due autorevolissimi chi siamo noi, noi siamo niente. Sarzanini e Molinari sono stelle nel firmamento dell'informazione italiana, però spiace dover ricordare che nelle democrazie liberali non funziona così. Sì, si è tutti uniti nelle crisi, uniti con chi sta male, con chi soffre, ma si è divisi nelle responsabilità. C'è chi governa e c'è chi fa opposizione. E il compito dei media liberi dovrebbe essere quello di fare lo scrutinio su chi governa, esercitare il controllo su chi governa, non diciamo giocare al giochino terzista della finta equidistanza. E questa lezione, più autorevolmente di noi, a me pare, la fa nella pagina dei commenti di Repubblica Stefano Folli, anche con un monito, a me pare, spero di non interpretare male, a Conte, come se Folli gli dicesse guarda tu già sei minoritario, la tua coalizione è minoritaria nel paese, ti metti pure a scatenare una guerra con le regioni del nord produttivo, siamo matti e andiamo a vedere come lo dice Folli, ne deriva che chi governa è il dovere di mettere in campo un supplemento di prudenza, evitando di soffiare sul fuoco. Una lacerazione tra l'esecutivo, la maggioranza che lo sostiene in Parlamento e il nord, sarebbe infatti l'ultimo colpo inferto a un paese in sofferenza, ormai sull'orlo di una nuova recessione o comunque impigliato in una lunga stagnazione. L'allarme per l'epidemia si è tramutato troppo in fretta in allarmismo e poi in panico, urge ritrovare un certo equilibrio. E poi c'è l'esigenza di non incrinare ancora di più la fotografia dell'Italia nel mondo. Ha senso dunque immaginare il governo Conte che si regge a malapena sulle due gambe PD e 5 Stelle contrapposto al nord governato dalla Lega, salvo l'Emilia di Bonaccini? La risposta è ovviamente no. Una coalizione parlamentare PD 5 Stelle l'EU che non ha la maggioranza nel paese e che soprattutto non rappresenta se non in minima parte il consenso delle regioni settentrionali dovrebbe astenersi dall'ingaggiare un simile braccio di ferro quali che siano i torchi e le regioni specifiche. Così a me pare in modo assolutamente cristallino e condivisibile Stefano Folli e così abbiamo visto altri tre commenti oltre a quello con cui abbiamo aperto del direttore Belpietro, il direttore della Levità Belpietro, Fiorenza Serzanini sul Corriere, Maurizio Molinari sulla stampa, Stefano Folli su Repubblica. Ci sono altri elementi diciamo di cronaca che vanno tenuti presenti? Sì, per esempio c'è un problema che riguarda anche le regioni per ora non contagiate che stanno assumendo delle misure prudenziali, giustificate, ingiustificate. Ricorderete che l'altro ieri si era posto il tema di un'ordinanza, della regione Marche, aveva tentato anche la Calabria, di chiusura delle scuole. Conte l'aveva fermata, ieri c'è stato questo scambio molto pesante come vedremo, anzi ve lo segnalo subito, sulla stampa un retroscena non firmato dice che oltre a Lorenzo Guerini lo stesso presidente Mattarella si sarebbe adoperato per garantire una ripresa di dialogo tra Conte e Fontana, dopo che il presidente della regione Lombardia Fontana è irritatissimo, lo racconta la pagina 2 della verità, avrebbe detto a Conte chiudendo la teleconferenza ma insomma qui c'è la crisi e tu stai in televisione da Barbara D'Urso, poi avrebbe anche aggiunto un'altra parola, non si capisce se Cialtrone, Cialatano, allora sarebbe scattata l'operazione diplomatica ma c'è un problema pure con altre regioni, diciamo delle Marche e che cosa ha fatto il governatore delle Marche che peraltro è uno del PD Ceriscioli dopo la conferenza di ieri di Conte con i 20 presidenti delle regioni ha riconfermato l'ordinanza, ha detto noi lo rifacciamo, le Marche vanno da sole, no al piano del governo, lo racconta Marco Palombi alla pagina 4 del fatto. Naturalmente qualunque giornale sceglierete di acquistare c'è attenzione ai riflessi economici, il giornale pagina 6, la crescita colpita al cuore, rinviato il salone del mobile e c'è anche diciamo così la connessione tra aspetti economici e aspetti politici, Augusto Minzoli parte in prima, gira pagina 16, il governo prende ossigeno nel senso che guadagna tempo e il virus mette Conte al riparo da imboscata per ora, ma rischia il crack sull'economia così Minzoli. Attenzione però perché Conte e Casalino, questo duplex, il maglioncino più il portavoce, una ne fa e cento ne pensa e vedrete che è facile essere buoni profeti, a azzeccarla. Sarà il retroscena di Repubblica firmato da Annalisa Cuzzocrea e Giovanna Vitale a scatenare oggi le polemiche. Il premier e l'incubo recessione. E fin qui. Ma virgolette dobbiamo fermare il panico e alla RAI chiede toni più bassi. E che vuol dire questa storia? Andiamo a vedere cosa scrivono i due retroscenisti di Repubblica. Così da Palazzo Chigi ieri è partita una telefonata verso l'amministratore delegato della RAI Fabrizio Salini con l'invito a virgolette raffreddare l'informazione sul coronavirus. E alle 12 a Viale Mazzini sono stati convocati i direttori di rete di testata con indicazioni precise. La prima preoccupazione resta la salute dei cittadini. Ma proprio per questo le informazioni vanno date in modo corretto, senza allarmismi non solo nei TG ma anche nei talk e nei programmi contenitore. La conseguenza sarà una drastica riduzione dei minuti e degli ospiti in studio dedicati alla diffusione dei virus e dei contagi. Ci sono troppe fake news ha detto ieri in consiglio dei ministri di Maia. E qui è fantastico. Cioè c'è un personaggio, Conte, che col maglioncino salta da una televisione all'altra poi c'è troppo cazzo. Ma lo dica a se stesso davanti allo specchio a meno che non si tratti dell'ennesima operazione per la solita stretta sulla RAI le solite liste degli ospiti che vanno bene e degli ospiti che non vanno bene tu, tu e tu sì, tu, tu e tu no. Sappiamo come funzionano queste cose è brutta questa cosa. In altri tempi Repubblica avrebbero l'editto bulgaro e invece chi? L'editto foggiano, come lo vogliamo chiamare l'editto del maglioncino, l'editto di Conte Casalino vedete, Annalisa Cuzzio Crea e Giovanna Vitale su Repubblica questo l'abbiamo visto. Che altro possiamo vedere? Eh no, siamo arrivati, anche perché siamo entrati nell'ultimo terzo della rassegna stampa, nelle cose che rischiano di essere però diciamo così oscurate dalla questione coronavirus che rischia di fungere da ombrello che nasconde una serie di altri temi. Claudio Antonelli, e questo pezzo va assolutamente letto la verità oggi va presa per molte ragioni ma questa vorrei dire è una delle più importanti Claudio Antonelli, lontano dai riflettori tedeschi e francesi ci fregheranno meglio avanza il Sialmes, non se ne parla più e domani è in agenda il trattato del Quirinale Macron vuole sfruttare la nostra debolezza a causa del virus si parla della ripresa del trattato del Quirinale uno schema che sul modello dell'intesa di Aquisgrana quella è tra Francia e Germania vuole legare a doppio filo le attività congiunte tra Roma e Parigi nell'ambito dell'industria della difesa, della sicurezza nazionale della proiezione militare all'estero, Libia compresa a differenza dell'asse tra Parigi e Berlino il trattato sostenuto dal PD e dal Quirinale ha un baco di partenza, non c'è scambio paritetico la Francia è più forte di noi e riesce a interferire nella politica nazionale italiana l'Italia invece è totalmente ininfluente dalle parti dell'Eliseo l'incontro bilaterale, a meno che salti per via del coronavirus cade per giunte in un momento di estrema debolezza del paese l'Italia è in ginocchio e Macron insista nel confermare l'appuntamento proprio per approfittare della quarantena del nord non è un dettaglio ma un elemento sostanziale basti pensare che a Napoli si discuterà di fincantieri i vertici non saranno presenti ma i due governi riprenderanno il discorso degli accordi militari interrutti a Liona, guarda caso sospesi dopo la sconfitta del PD ripartiranno omettendo una parte fondamentale del fascicolo quella civile Parigi ha già fatto sapere che in caso di bilaterale non si discuterà dell'acquisizione da parte di Bonn di fincantieri di STX e dei cantieri francesi di Saint-Nezare e allora capite bene come la situazione sia effettivamente delicata e rischiosa quindi tenete d'occhio questo pezzo di Claudio Antonelli e tenete d'occhio per ragioni analoghe naturalmente il taglio dell'articolo qui è diverso ma voi avete la capacità di leggerlo all'inverso il pezzo del Corriere è diciamo fattuale Alessandro Trocino intercettazioni sì alla fiducia e sotto si legge l'opposizione così il paese ha i PM e perché che cosa succede? in tutto questo linee di sospensione il Parlamento farà bontà del governo un'informativa sulla situazione sanitaria ci sarà il decreto sul virus eccetera però è stata confermata per domani l'approvazione finale del decreto sulle intercettazioni ora alzi la mano chi tiene che si possa dare il bollino di urgenza di necessità urgenza straordinarietà i requisiti ex costituzione della decretazione d'urgenza all'intervento che consente l'allargamento a una serie infinita di reati dei captatori quelli che trasformano i vostri telefonini in una specie di super spia che non solo prende le telefonate i messaggi whatsapp le chat ma fa audio e video di tutto quello che accade a casa vostra in camera da letto nelle vostre stanze con vostra moglie con vostro marito con chi incontrate con chiunque abbia la sventura di entrare nel vostro raggio d'azione e questa cosa va tranquillamente e sembra andar bene a tutti Quirinale incluso che poi dovrà promulgare la legge di conversione del decreto siamo arrivati alla fine e alle segnalazioni conclusive ci sono tre segnalazioni da fare la prima è una segnalazione curiosa sul messaggero è anticipata ad oggi quindi a un mercoledì di solito accade nel weekend la domenica e il sabato l'intervento di Romano Prodi che di solito ha i seguenti schemi viva Bruxelles ci vuole più Europa viva Pechino non dobbiamo isolare Pechino viva Teheran non dobbiamo isolare l'Iran Brexit cattiva e oggi attenzione l'incipit è curioso voi sapete che l'Unione Europea si è incartata pure sulla questione del bilancio so di essere provocatorio dice Prodi ma sono costretto a pensare che il fallimento dell'accordo sul bilancio comunitario costituisca per l'Unione Europea un messaggio forse peggiore della Brexit ma come? ci avevi raccontato che tutti i problemi erano gli inglesi i cattivi la perfida albione e adesso che virgolette il problema altro che il problema la risorsa britannica ma per voi il problema per voi franco tedeschi e italiani ahimè di complemento l'avevate letto come un problema e non riuscite lo stesso a mettervi d'accordo va bene chissà se quanti anni serviranno perché l'UE faccia autocritica su Brexit sulla criminalizzazione dei britannici sulla scelta leggera e sbagliata di consentire che che Londra avesse così tante buone ragioni per andarsene non sarebbe stato meglio fare più concessioni a loro e più concessioni alle altre 27 capitali per avere un'Europa più rispettosa delle diversità e che non convincesse gli inglesi a salutare quanto ci vorrà e quanto ci vorrà non è oggi la giornata giusta perché anche Hillary Clinton faccia un po' di autocritica niente da fare anche lei tiene la barra dritta la sente Paolo Valentino sul Corriere della Sera diciamo l'occasione dell'intervista è dire che a lei non piace Sanders che è il candidato che già la insidiò moltissimo nelle primarie di quattro anni fa che la attaccò in modo molto duro da sinistra ma e dice di Sanders la cosa più banale che la Clinton potrebbe dire cosa potrebbe dire la Boldrini di Sanders ecco quello che dice Hillary Clinton mi preoccupo nei suoi attacchi contro le donne vabbè però poi attenzione alla domanda avendo perso contro Trump quale consiglio gli darebbe per batterlo e ora aspetterebbe beh sì in effetti ho sbagliato qui ho sbagliato là no ho avuto 3 milioni di voti più di Trump e nell'elezione del 2016 ci furono aspetti senza precedenti alcuni con l'interferenza russa sembrano ripetersi anche questa volta ho detto a tutti i candidati che dobbiamo battere Trump ma che dobbiamo vincere anche contro l'interferenza straniera la propaganda sui social media gli ostacoli insormontabili a votare posti contro le minoranze che sono la specialità repubblicana quindi perché ha perso? non perché era una cattiva candidata perché era il simbolo del vecchio potere perché era insopportabile agli americani no ma perché i repubblicani ma governava Obama avrebbero impedito alle minoranze di votare in modo adeguato perché c'era la propaganda cattiva sui social media perché c'era l'interferenza russa e comunque lei ha preso più voti va bene diciamo dove si fermano Gianni Riotta Christian Rock tutti questi che ancora riconteggiavano i voti in Florida e in California dove loro vanno in corsia d'emergenza la Clinton va in corsia di sorpasso prendiamoci un ultimo sorriso amaro ve l'avevamo detto qualche settimana fa che si preannunciava una saga intorno a Capalbio che cosa è successo alle comunali di Capalbio la scorsa primavera dopo che la Lega aveva trionfato all'europea Capalbio i capalbiesi la piccola T nel mondo intellettuale le aristocrazie intellettuali della sinistra insediata a Capalbio temevano che pure alle comunali il candidato della Lega sfondasse no il candidato della Lega o beh il candidato civico sostenuto dalla Lega un dentista mi sembri ricordare non vinse vinse un altro candidato peraltro di storia ex PC ex PD e comunque ora civico Vittorio Emiliani già firma del messaggero oggi transitato sul fatto gli aveva rimproverato due settimane fa al nuovo sindaco di aver voluto lanciare il progetto di un golf club e quindi apriti cielo no ma le nostre i nostri pini i nostri formaggi eccetera oggi cerca Emiliani di vendere questo candidato come candidato di centrodestra ma in realtà il candidato sostenuto da Salvini era un altro ma per dire che questo sindaco è cattivo tratta male l'opposizione eccetera dice quel sindaco un po' the Donald è pur il sigillo di Trump Bianciardi così si chiama ha tirato dritto poi però ha sentito che doveva esprimere in modo nuovo il proprio radicale giudizio un po' alla The Donald no? e così gli è sgorgato dal cuore ma chi scrive queste bischierate? lo sa cosa scrive di che si parla? ma voi siete proprio certi di ciò che scrivete? avete capito bene quello che si prevede? noi non conosciamo questo sindaco non sappiamo se stia facendo la cosa giusta o la cosa sbagliata ci riserviamo magari di leggere di formarci un'opinione ma senza sapere nulla il solo fatto che questo sindaco susciti le ire degli intellettuali fiammeggianti di Vittorio Emiliani e che addirittura si prenda l'accusa di essere un po' trampiato quasi quasi ci fa avere al buio un filino di simpatia per come si chiama il sindaco Settimio Bianciardi ma seguiremo la vicenda perché sicuramente non mancheranno delle altre puntate allora il nostro tempo è concluso per oggi sono le 7.31 siamo stati puntuali l'invito è quello di passare in edicola è mercoledì e quindi l'appuntamento è con la verità e con panorama noi ci risentiamo questa sera alle 19 e attenzione puntate l'orologio stasera puntata speciale sarà in collegamento ed è un gran piacere Maria Giovanna Maglie con cui converseremo di cose italiane e di cose internazionali quindi ore 19 chiacchierata con Maria Giovanna Maglie e poi ci risentiremo domani mattina alle 7 buona giornata a tutti grazie a tutti